Vista dal campo di battaglia, la crisi ucraina rimane drammatica. Si continua a combattere attorno a Donetsk e vicino a Mariupol e le forze ribelli hanno consolidato le loro posizioni in tutta l'area. Per gli insorti, che secondo Kiev riceverebbero aiuti militari dalla Russia, prossimo obiettivo sarà la conquista di Mariupol, la città di un milione e mezzo di abitanti e in una posizione strategica tra le aree controllate dai filorussi e la penisola della Crimea, annessa a marzo alla Federazione Russa. Infine, l'agenzia russa Ria Novosti ha confermato la morte di un suo fotoreporter del quale non si avevano notizie dallo scorso 5 agosto. Andrei Stenin, 33 anni, sarebbe stato colpito da unità dell'esercito mentre seguiva una colonna di insorti vicino Donetsk. Dopo tre russi e un italiano, si tratta del quinto giornalista ucciso in Ucraina dall'inizio delle ostilità.